Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì l'estate continuerà ad andare un po' in crisi sulle regioni centro-meridionali per effetto di una blanda circolazione depressionaria in quota che accentuerà l'instabilità proprio sul nostro paese, in particolare al centro-sud, mentre l'alta pressione continua ad insistere sul Mediterraneo occidentale. Più nel dettaglio osserviamo la mappa della nuvolosità che ci mostra qualche addensamento in mattinata sulla Valpadana occidentale, mentre durante il pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla dorsale appeninica con associate precipitazioni. Vediamo infatti lo zoom delle piogge che ci mostra un'Italia nel complesso asciutta, in particolare la Valpadana, mentre durante le ore pomeridiane saranno soprattutto i settori appeninici del centro-sud che vedranno piogge, acquazzoni anche temporali localmente di forte intensità. Ma vediamo quindi il tempo previsto sul nostro paese, gran sole, sulla Valpadana, lungo le coste adriatiche, mentre dal pomeriggio, come dicevo, sull'Appennino aumenterà la nuvolosità, l'instabilità con acquazzoni temporali che potranno sconfinare anche fin sulle coste del medio-basso versante terrenico, disturbi anche sulla Sicilia, sull'entroterra sardo, qualche occasionale acquazzone sulle Alpi più occidentali. Clima caldo ma senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli consultate l'app di Tribi Meteo.